Quando eri sono arrivato là e lui voleva mettere una setterra, ce l'avevo in cuore e pensavo, ehi, allora, mi sono concentrato. Gianna, ma guardate, non lo staccate perché non lo vengono in strada di destra. E lui ha fatto una testa così verso l'altra, allora. Tutto a me c'è sangue. Grazie.